Ancora non mi sembra vero. Ci innamoreremo ancora di una minuscola creatura. Respiri. Conterrò alla rovescia da tre. Comincio. Tre, due, uno. Respiri. Non posso più ingannare la mia famiglia. Ma nell'istante in cui dirà sua moglie che sta per morire, la sua occasione svanirà. Vuole entrare a salutarlo? Ora quindi ha tutto? Tutto ciò che lei ha sepolto nel subconscio. Può affidarsi a noi e lasciare che per la sua famiglia la vita continui. Uno scambio pulito. Non capisco quale sia la scelta giusta da fare. Forse pensavo di avere più tempo. Lei ha un'opportunità qui da noi. Io non ho chiuso, non ho detto che poteva andare. Lei sta morendo. Sento come se mi stessi rinnamorando di lei per la prima volta. Non mi piace. E a me sì, secondo te. E mi dica, tu non sei perché tu non sei me! Tu non sei me! Io ti amo, Cameron Turner. È un'opportunità. Perché la sua vita è conere! Mi dica, tu non sei che io? Mi dica. Grazie a tutti.